A Luidinza dell'8 gennaio sulla manovra di bilancio regionale scelsero di non partecipare. Un confronto senza la disponibilità di dati ed eventuali bozze di discussione era poco utile. Abbiamo chiesto contestualmente carteggio e materiali utili rispetto al documento, con particolari riferimenti e proposte sul lavoro, sviluppo, questione sociale, spiegano i segretari regionali di CGL Cislewil. Avremo auspicato come da prassi una nuova convocazione per confrontarci nel merito delle questioni o perlomeno una nota di chiarimento. Ad oggi però non hanno ricevuto carteggi né richieste di altri incontri. Il loro intervento potrebbe preludere a uno scontro col governo di Palazzo Vitale. Per ora De Socio, Notaro, Boccardo e le segreterie mettono a nero su bianco la necessità di concertazione. Il confronto con il partenariato sostengono è fondamentale per il rilancio del Molise. Proprio grazie all'istituzione di diversi momenti contrattuali e concertativi, ordinari e straordinari, abbiamo ottenuto importanti risultati come il riconoscimento dell'area di crisi complessa e l'organizzazione condivisa dei relativi strumenti propedeutici all'erogazione di ammortizzatori sociali normali e in deroga. Dei media hanno appreso che il governatore ha incontrato il partenariato socio-economico e ha definito le riunioni molto produttive. Siamo lieti di conoscere a mezzo stampa di questa sua larga condivisione che evidentemente non riguarda le nostre organizzazioni sindacali e le migliaia di lavoratori e pensionati che rappresentiamo in Regione. Ricordiamo a noi stessi che a fine luglio abbiamo avuto il primo e unico incontro con il Presidente della Giunta dove si era concordata un'altra strategia di condivisione da seguire. In tale occasione, di fatti, si paventavano impegni reciproci, tesi, al vero coinvolgimento delle parti ma che da qualche tempo vanamente attendiamo. Poi c'è stata l'informativa sulla ZES senza che ci sia stata la possibilità di sviluppare un confronto vero. In questa sede, in realtà, con tempi contingentati, venne comunicata a noi e ad altri attori sociali la scelta operata dalla Giunta del cambio di adesione dal protocollo ZES-Abruzzo con quello della Puglia. Relazioni sindacali quindi quasi inesistenti finora. In una fase complicata per cittadini, lavoratori, pensionati e disoccupati, chiude la triplice. Puntiamo a ripristinare un confronto sereno e democratico che dovrebbe, a prescindere, caratterizzare il rapporto tra governo regionale e organizzazioni sindacali. dell'ariente, 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 di Castelmar.